www.feyyaz.tv Siamo aspettati più, più cambiamenti, e abbiamo pensato che abbiamo davvero amato il nostro paese. Ma poi, dopo il tempo, abbiamo capito che i politici, i loro amati molto più di loro, che i loro amati il paese e i loro loro. Sì, spero che nei prossimi 10 anni, le cose saranno ancora più migliori. Sì, spero che nei prossimi 10 anni, le cose saranno ancora più migliori.